Penultimo giorno per lo screening di massa oggi a Pesaro, una delle città tra i sei capoluoghi di provincia ad essere coinvolta nella grande operazione avviata venerdì scorso dalla regione per tutti i residenti delle Marche. Domani, mercoledì 23 dicembre, sarà l'ultima data disponibile per i cittadini che vorranno sottoporsi al tampone antigenico rapido gratuito fondamentale per isolare il virus nei soggetti asintomatici, nelle tre sedie allestite in città, la Vitrifrigo Arena, il campus scolastico e l'Istituto Alberghiero Santa Marta. Le operazioni fino ad oggi sono proseguite in maniera ottimale su tutto il territorio regionale, come anticipato ieri l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. A Pesaro sono stati impiegati complessivamente 100 operatori sanitari, 120 volontari della protezione civile e 50 della Croce Rossa. Nel giro di 5 minuti riescono a fare il tampone, 10 minuti di risposta e sono fuori. Tutto molto, la fila è costante per cui non ci sono blocchi e va tutto bene. Grande impegno della protezione civile e quanti volontari sono stati impiegati? Finora diciamo che ne impieghiamo quei 20-25 al giorno, fino ai prossimi giorni e i giorni dopo anche per la logistica, per montare e smontare tutto. Diversi cittadini che si sono voluti sottoporre al tampone anche per sentirsi più sicuri in vista delle festività natalizie. Per essere tranquillo, perché è una cosa che bisogna fare. Abbiamo fatto per essere più tranquilli, è tutto a posto e siamo contenti. Se arriverà il vaccino farà anche il vaccino. Eh ma diamine, è la prima cosa. Noi l'aspettavamo anche per nostra figlia, visto che ci siamo per televisione, ma lei non c'è più. Aspettavamo perché lei era lassù in un istituto. A Montegrimano, è morta il 9 dicembre. No, no, aveva un po' un handicap. Semplice, semplice, in 10 minuti ho fatto tutto. Sono negativo, sono a posto. Si vaccinerà anche? Eh, adesso vedo prima gli altri, dopo è senz'altro più in laci sicuramente. È negativo. Quindi è contento? Perché ha fatto il tampone? Per sicurezza, per così. È un'opportunità che bisogna sfruttare. Quando arriverà il vaccino che cosa farà? Lo farò sicuramente. Sì, ho fatto il tampone ed è negativo. Il motivo per cui l'hai fatto? Per sicurezza, per me è personale, per le persone con cui vivo e che frequento. Quando arriverà il vaccino lo farai? Sei d'accordo o contrario? D'accordissimo. Sì, ho fatto il tampone, negativo, tutto bene. Adesso quando arriverà il vaccino, speriamo presto, ci vaccineremo. Lo screening proseguirà fino a domani, mercoledì 23 dicembre, nelle città di Pesaro, Urbino, Ascoli, Piceno, Fermo e Macerata, mentre ad Ancona si terrà anche dal 27 al 29 dicembre. In questo caso, gli anconetani che avranno il tampone prenotato per il 27, giorno di zona rossa, potranno andare a farlo muniti di autocertificazione. Sul sito istituzionale della Regione e dei rispettivi comuni, tutte le modalità per partecipare.